vi porto subito a Vaiano Cremasco a conoscere Jim lui è Jim è un misto setter di due anni l'abbiamo trovato vagante nel territorio è molto molto coccolone cerca molto il contatto con le persone vedete con i bambini va d'accordo sicuramente riuscirà a fare felice la famiglia che l'adotterà e riuscirà a dargli tante soddisfazioni perché è proprio un bel cane io vi chiedo subito di telefonare al nostro numero 0373 278285 di sogni felici oppure scrivete a portami a casa chiocciola dalla parte degli animali punto it e Jim verrà a casa vostra sarà il più bel regalo